Benvenuti a Compila, quindi va! Non ho capito, non ho capito perché c'era questo ritorno, ma soprattutto sono accerchiato, spero che si senta, ecco c'era il doppio, avevo il monitoraggio attivo e quindi ciao Muzio, ciao Criccolo, ciao Ide Simon, mi viene in mente così, anche c'è la Jay che è forviante, e anche Jax, 23 dev da Bari, da Bari, quindi siamo distanti, io sono a Reggio Emilia quindi siamo agli antipodi, da Bari dove sei, io sono a Bari, tu Muzio non sei siciliano, no, non sei siciliano, mi confondo con qualcun altro, Bari città, attenzione, qui abbiamo Carramba, abito nel palazzo di fronte, non so se si scopriva, Bari è pure sangue, assolutamente non voglio, non volevo insinuare nulla, siamo distanti, quindi almeno fisicamente, virtualmente no, ma fisicamente direi di sì, al bot vedo che spamma un po' troppo, adesso la live sperimentale perché devo anche vedere un po' di tempistiche, di alcuni automatismi che ogni tanto rompono un po' le scatole, devo vedere se rompono le scatole troppo, è complicato, dovrei escluderli dalla chat in modo che non compaiono, ma quello è un altro problema, come dire, in quel caso però, cioè almeno che non vedi i messaggi del bot che gli ho dato un nome veramente di una fantasia sopra fine, compila quindi bot è un... allora, vediamo se riesco a far ripartire ma molto basso, possibilmente... la musica la tengo d'occhio, almeno di così... no, a 1 è troppo poco, a 10, proviamo così, vediamo, speriamo che non sia troppo alta perché mi... mi si lamentano che la musica è alta, quindi magari dopo al massimo la tolgo, ecco, quindi così vediamo, poi sperimenterò come... eh, la vedo un po' che... la barrettina la vedo che va a metà a scala, però forse sono io che... io non la sento più, quindi non... do per scontato che sia bassissimo. Eh, sì, ho un po' un attimo risistemato il canale con niente di che, ho ripreso cose che avevo già usato in passato, ogni tanto cerco di ottimizzarlo, l'ideale sarebbe farmi fare la grafica da qualcuno, però non... si sente forte e chiaro, sì, dal microfono avevo tirato sul volume ai massimi livelli, quindi forse si sente dire tu è troppo forte, però per non alzare troppo la voce in casa, che dopo la vicina mi denuncia per schiamazzi e... e poi perché non gioco, perché sennò sarebbe anche peggio, quindi... anche se dovrei rifare un po' di giochi in live, come facevo un po' di tempo fa, che ho fatto un... facevo un paio di partite, mettevo il login o compila, quindi gioca, con il va barrato e mi mettevo a giocare a dei giochi stupidi. Eh, vabbè. Ciao Sandro, ben arrivato. E che dire, quindi sì, ho... mi sono impostato un po' un tastierino, così io ho le cose un po' più comode, in realtà non sono così comode, però quindi ho gli effetti che posso lanciare... posso lanciare direttamente... ci sono dei comandi anche sulla chat, se non ricordo male, che dovrebbero richiedere... non richiedono punti canale, ma dovrebbero avere... che poi sono sempre i soliti, eh, in realtà, però... devo ancora prendere dimestichezza, non so neanche se funzionano tutti e quindi... la vede su Twitch, col punto esclamativo, ci sono i comandi, quindi se scrivo ad esempio così, home, da l'indirizzo della home page, se scrivo YouTube, mette l'indirizzo del canale, YouTube... non mi è abbastanza comodo. E ci sono dei timer che ogni tanto il bot scrive, manda messaggi... ehm... così, come... come viene, viene... sto sperimentando, alla fine io non sono uno streamer e quindi queste cose fanno un po' da... da sperimentazione, ogni tanto provo... è un software interessante, si chiama Streamer Bot, direi che... c'è il sorgente su GitHub, è fatto in C-Sharp, si collega sia con Twitch, con OBS... poi c'è lo Stream Deck che si collega a tutti e due e quindi c'è un automatismo che ci ha voluto una settimana per impostarlo, però... e infatti adesso per un po' lo terrò così perché ci vuole troppo tempo a configurare tutto, però vabbè... al netto di questo poi ho rimesso la webcam dove era perché la settimana scorsa ho provato a spostarla, ma... diciamo che dovrei avere una stanza dedicata per fare queste cose, ma siccome non ce l'ho... il microfono dovrebbe essere a posto, adesso non lo muovo troppo che non... non staccarlo, quindi come va tutto a posto, la settimana scorsa ho bigiato, devo dire, però... è che avevo un po' di cose da... ero un po' impegnato e... ho approfittato della Pasqua, c'era la Pasqua che un po' scombinava tutto, ma... volevo portare qualcosa ma poi non... non ce l'ho fatta e quindi è il problema del lavoro, ecco... quello è... questa settimana diciamo tutto normale, se non fosse che... siccome venerdì mi faccio un giretto qui nella... nella riviera... ho dovuto anticipare la palestra, però per un contrattempo della palestra mi hanno partecipato il lunedì a stasera, quindi devo fare tre giornate tra stasera e giovedì e quindi stasera, domani sera e giovedì sarò per un'ora a farmi schiavizzare totalmente... già stasera siamo partiti... non ho le braccia che non vanno ma... perché non sono un fan, però devo farlo per... per stare in salute, ecco... quindi sono una certa per cui... vabbè a parte quello... niente... forse era meglio se ne saltavo una perché mi sa che questo fine settimana non riuscirò a camminare ma... vabbè... teniamo duro, teniamo botta... purtroppo però facendo questo mestiere viene il sedere piatto e bisogna ogni tanto andarlo a far muovere non solo il sedere ma anche il resto e quindi... così sembrava una cosa sconcia però... vabbè non era... per cui... no... ho un attimo interrotto la serie di live su tutorial su Delphi visto che abbiamo fatto un po' di... cioè... continuiamo sempre lo stesso argomento però per fare un po' le live tradizionali che facevamo anche prima su svariati argomenti è stata rilasciata... tra l'altro mi sono preparato appunto le... come dire... le... quando devo ad esempio fare le news ho messo la copertina... news... veramente bruttissima però vabbè... e quindi questo è un automativo... tutto automatizzato quindi adesso sto sperimentando... in realtà sarebbe interessante scrivere un programma da usare con questo tastierino... ho provato ma le sdk non... si plus plus... non ho capito come ci si può integrare... però vabbè... se trovo il modo di farlo me lo studio in diretta in una live così... quindi ho messo le... le varie... i vari intermezzi... in realtà ne avrei dovuto aggiungerci un... o un effetto sonoro qualcosa... ma vabbè... adesso pian pianino andrò a... così come ho preparato dei widget tipo... posso togliere la chat e far comparire la mitica ruota con il mio logo... questa mi servirà in futuro perché magari ci sono delle cose... ovviamente di mettere in palio adesivi o altre altre cose di questo tipo... ecco... devo configurare... per tornare alla pagina ma... vabbè... devo un attimo perfezionare... mi sto un po' predisponendo e volevo... provare un po' questo... questo setup... con grande fatica perché... non sono appunto uno streamer ma... quindi interrotto un po' la... la news è che è uscita una nuova release di... di Delphi... ecco... per chi è nuovo di questo canale... non segue live... io principalmente... poi in realtà... se ci sono... richieste... tra l'altro... forse l'ho messo anche come cosa... riscattabile... il... suggerisce un tema... per una live... quei punti canale... ho cercato di mettere... qualcosa di utile nei punti canale... tipo... fai una... fai una domanda... fai... sfida tecnica... adesso... alcune cose... giusto per quando serviranno... da... da riscattare... però... ho detto... magari... può essere utile... eh... come i gamer hanno le cose... da... da gamer... tipo... mettiti... che... ad esempio... che non possono... bestemmiare mentre giocano... è quella... una grande limitazione... ho pensato a qualcosa... legato allo sviluppo... però... devo... un attimo capire bene... come e quando utilizzarle... però... almeno... come dire... c'è una... una sorta di... premiazione... per chi... accumula i punti canali... li può usare in qualche modo... e... cos'è che stavo dicendo... ehm... non mi ricordo... comunque... è uscito... Delphi 12... ah... si... chi... è... chi... è nuovo... io porto spesso Delphi... anche se ho portato... un po' di Python... cose in JavaScript... quindi... eh... una live su... su... suати... su... su Windows Phone... su... progettare finestre... quindi... eh... sono tutte sul... canale YouTube... perché... polls... è... le cancella... dopo un po' di tempo... penso... si tenga al momento... due mesi... per gli affiliati... perchè... sono... affiliato... e... poi le cancella... però... su YouTube... le tengo... anche... perché... a volte... possono... può tornare utile di guardarle... alcuni... ovviamente... invecchiano peggio altre meglio e quindi abbiamo visto anche altre cose ma principalmente porto dei perché degli altri linguaggi e framework eccetera ci sono già un bel corso di python proprio da zero sarebbe utile e in realtà l'ho fatto cioè non era proprio un corso però sul canale youtube come se il link così abbiamo fatto 11 12 live forse qualcosa del genere forse un anno fa o così dove non era proprio un tutorial anche se più o meno diciamo sapevo un po le cose ecco avevo già prestudiato però era una sorta di ripasso e l'ho fatto in live e quindi non solo cioè è un corso ma sono proprio io che mi metto lì mi studio come fare le stringhe come gestire le liste edizionari mi studio un po di cose e in live è vero che live sono un po lunghette ci si perde anche un po in chiacchiere però alla fine era interessante perché più che come spiegazione proprio un mettiamoci sullo stesso piano anche poi alla fine siamo sullo stesso piano e studiamo assieme la cosa e in questo modo sicuramente ci sono dei corsi molto più rapidi e veloci però quello era proprio un ripassiamo lo vediamo assieme facciamo facciamo prove il bello di fare queste cose in live è che ci può essere qualcuno che sul momento dice ma se questa cosa la facessimo così e quindi chiaramente se una cosa curiosa una domanda può dare curiosità anche a me vale la pena provarlo se invece una cosa che magari non è stata capita io l'ho capita posso provare a spiegarla se non l'abbiamo capito in due possiamo analizzarla in due o più diciamo possiamo se non l'ho capito io e la chat sì la chat mi dice guarda che guarda scemo che è questa la questione come poi normalmente succede quindi però ecco è una cosa abbastanza interattiva è bello così però chiaramente i corsi sono più sono più veloci ecco quello è proprio dalle basi quindi proprio linguaggio in sé mi sembra che abbiamo fatto più o meno tutto string list edizionale po di programmazione oggetti regular expression ma c'è sei file abbiamo fatto un po' di cose abbiamo forse fatto delle piai o cose di questo tipo però sul mio canale sempre youtube ho linkato perché non sono in realtà sul mio canale ma sono su un altro canale che quello direte informatica lavoro un webinar con python dove abbiamo fatto delle piai con due librerie abbastanza diffuse flask avevamo usato per fare una demo di webpi quindi avevamo fatto anche un po di sviluppo web non è pubblicato sul mio canale ma l'ho messo nei webinar l'ho linkato e quindi si riesce a raggiungere comodamente anche da lì è un'oretta quindi non è che quello sia molto lungo però si riesce a vedere perché questi webinar così adesso ne dovrò proporre qualcuno nuovo da fare a chi li organizza di solito io cerco sempre di mettermi un po dalla dall'ottica di chi magari lo guarda e parte da zero con qualcosa che l'obiettivo di fare webinar non è dire e guardate io l'ho capito vi faccio vi faccio vedere che l'ho capito l'obiettivo è come dire empatizzare con chi lo sta studiando e magari ha dei dubbi e a quel punto uno potrebbe dire ma devo sfalsare i tempi è perché il bot arriva arriva con i messaggi tutti in un colpo secondo me ho messo tutti i multipli di tre o di 30 secondi di minuti e quindi arrivano tutti assieme vabbè questa è una realtà potrei farlo no adesso non tocco niente perché dopo metti che mi tiro giù la live no dicevo io cerco sempre un po ma anche nelle conferenze così di mettermi nei panni di chi approccia una cosa che io ho approcciato semplicemente prima e quindi che ho già visto ma la differenza è tutta lì e di dire so che la difficoltà che ci può essere questa e di azzeccare magari mi capita spesso quelle che sono le difficoltà maggiori e quindi siccome già mi sono studiato la risposta cerco di introdurre in maniera morbida anche perché molto spesso spiegazioni acronimi nel mondo dell'informatica non sono fatti sembra apposta per scoraggiare la gente mentre infatti devo fare anche un post adesso vedrò lo farò su linkedin forse adesso ci stavo pensando perché questa settimana su un forum di discussione sui programmatori.it ecco se programmate avete qualche difficoltà con delfi javascript c++ linguaggi che usate c'è i programmatori.it che probabilmente conoscete c'è un forum dove ci si dà una mano magari ecco se avete delle domande di caratura elevata perché molto spesso c'è gente che arriva e dice devo fare questo come si fa e ti propone la domanda è non so un sito vetrina come si fa la domanda è un po generica è come se uno oggi si sveglia e dice voglio operare uno al cuore cosa devo fare non è una cosa che si possa esaurire su un forum però ecco a volte ci sono delle domande anche e delle discussioni intelligenti e questa settimana c'era un thread dove si parlava di è troppo tardi a 45 anni per iniziare a programmare io sostengo di no qualcuno sosteneva di sì qualcuno sosteneva che bisognasse laureati io dico di no e non lo dico a caso perché non lo sono però porto un po' l'acqua al mio mulino però alla fine la discussione era abbastanza interessante quindi volevo trovarne spunto per fare un po' su linkedin dove ci sono anche dei recruiter eccetera perché ognuno ovviamente parlava della propria esperienza però non è che abbiamo a meno che io sappia non abbiamo dei grossi dati quindi sarebbe stato interessante io onestamente non esiste limitabilità per iniziare no lì chiaramente dopo la discussione andavo un pochino sul passa il messaggio che come dire guardando due filmati su youtube qualcuno aveva scritto anche qualche live forse forse era una frecciata a me non lo so si riesca a imparare a programmare no non è che voglio far passare questo messaggio che basti quello ci vuole ovviamente l'esperienza ci vuole del tempo però cioè quello che si sostiene che facendo l'università lo si possa fare però se tu studi per sviluppare ci vuole una marea di anni ma come è possibile che tu con l'università sei pronto e la fai in 5 e se invece studi per conto tuo in 10 non va bene cioè o in cinque anni puoi imparare a parte che io non ho visto universitario che esca e sia pronto per il mercato del lavoro l'ho sempre dovuto formare ecco io non ho grosse esperienze con tanti dipendenti ma quelli che abbiamo avuto un minimo devono essere calati nel contesto però ecco le persone che ho avuto mi hanno sempre lasciato abbastanza soddisfatto se ne sono andati perché qualcuno ha trovato opportunità interessanti e quindi ha detto di una programmazione non ha nulla a che vedere con la laurea ma chiaramente se fai università hai un come dire delle cose di base che sicuramente ti consentono di andare a imparare qualcosa avere delle nozioni per cui tu sei orientato poi è facilitato a studiare anche il resto ti fai anche una parte di programmazione però perché si parlava anche di software ovviamente che gestiscono cose ingegneristiche però come ho specificato io annetto che tutto il software non è tutto non tutte se devo fare un gestionale non ho bisogno di conoscere l'ingegneria potrei dover conoscere le regole fiscali potrei aver bisogno di varie mezzo c sottoscritto abbonamento con prime adesso finalmente riesco l'abbonamento con prime wow è partito anche il lettore gli automatismi che partono perché io non riesco a testarli cioè li posso testare così però solo in live riesco a sapere se poi funzionano meno comunque grazie almeno siccome tra due minuti partirà lo spot è già un po che lo spengo adesso lo posso spegnere forse per l'ultima volta no ok per cinque minuti non rompe almeno ti eviti gli spot che sono la cosa più noiosa che ci sia e quindi grazie mille comunque sono nato per per l'endorsement per la fiducia tra l'altro non hai scritto prima non è che ti ho scammato come si dice cioè quando scammare per i gamer quando uno scrive perdi il messaggio e non lo caghi come dicono di solito ci sono dei canali dove la gente si arrabbia tantissimo e quindi cerco di leggerli tutti no sicuramente però ecco devo fare un lavoro ingegneristico statistico mi faccio dire dalla persona che è ingegnere o che è laureato la formula e poi l'implemento però non è che c'è per implementarla c'è bisogno di conoscerla poi se devo fare un gestionale se devo non so archiviare fatture ddt se voglio verticalizzare ho fatto un software per verticalizzare ad esempio roba di trasporti roba di controllo remoto certo una formazione informatica ovviamente utile però se hai fatto la scuola giusti ha fatto una scuola superiore dove queste cose c'è un indirizzo specifico perché io sono partito col pallino e sono andato fino in fondo e quindi le nozioni ci sono ho sempre rimpianto il fatto di non aver voluto intraprendere un altro percorso scolastico di buttarmi subito per facendo anche l'esperienza che comunque è utile però non dico che sia inutile però secondo me questa rigidità di richiedere una laurea perché a questo punto servirebbe per qualunque cosa anche per un meccanico per un idraulico quindi come stabiliamo se ci vuole o meno però però diciamo che la tendenza di quella discussione era un po' estremizzare quello che si diceva per poi smentirlo se dico che secondo me a 45 anni uno che ha un po' di attitudine che non è negato ha molte più possibilità di studiarsi cose anche su youtube secondo me perché è vero già si fa lì si fanno le pulci si facevano le pulci a quelli che pubblicizzano i corsi full stack in sei mesi è ovvio che quello è un claim esagerato annetto che poi lo diventi cioè comunque ti fanno vedere tutto quindi è ovvio che non hai l'esperienza da dire sono un esperto però non è che se io da oggi voglio andare a lavorare in una cucina non è che io debba essere necessariamente come dire chef posso anche fare il semplice cuoco cioè se voglio fare lo sviluppatore lo voglio fare come manovalanza che detta così siamo un termine brutto ma qualcuno come dire l'ha qualificato come fare cose di basso livello in realtà lo intendevo solo inteso come ho bisogno di qualcuno che scriva il codice scrivi il codice quindi non è che tu scrivi il codice brutto poi si parlava ovviamente della qualità del codice perché siccome la gente con esperienza scrive codice brutto io ho fatto presente che lavoro dal 97 però nel 97 quando ho iniziato non scrivevo codice bene come scrivo oggi però non è che non ho fatto software e non è che non ho preso stipendi mangiato anche come dipendente cioè ho aperto la mia azienda nel 2003 siamo nel 2024 però nel 2003 non ero così però i nostri clienti ce li siamo fatti la gavetta ce la siamo fatta ma cioè se si parla di intraprendere un mestiere per poter farlo e guadagnarci come dire ottimo documento quello che è scritto sul clean code documento 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 so che ci abbiamo fatto tre live sulle clean code in realtà avevo fatto avevo fatto anche un conferenza secondo me c'è anche un filmato c'è anche un filmato come con delle slide cose del genere con delfi come riferito ho letto il libro poi ho tradotto tutto da java ho letto un pdf sei mio forse sono una slide o qualcosa del genere però iniziano a ricordarmi le cose che ho fatto io anche perché a 45 anni non ha ancora vent'anni di lavoro davanti come minimo se non anche qualcosa di più e quindi sei tipo slide probabilmente sono le slide di un delfi day o qualcosa o di un seminario che ho fatto che si erano tre ore di questa roba clean code è interessante anche queste cose che sembrano i principi solide clean code secondo me sono le cose più interessanti ad oggi da da studiare perché comunque sono principi abbastanza generici puoi fare tutte le esperienze che vuoi ma sì cioè nel senso è ovvio che migliorerai con gli anni però nel momento in cui tu parti a parte che formazione va fatta a chiunque perché ogni azienda le sue convenzioni chi usa già il chi usa scrum chi usa il suo sistema hanno già dei software in essere quindi tu fai manutenzione devi sapere come sono fatti cioè ti devi fare la formazione in loco per qualunque azienda ovvio che cioè è innegabile qualcuno lo diceva che se devo assumere una persona uno di 45 anni uno di 20 quello di 20 mi aspetto che sia più fresco perché magari inizia obiettivi però come dire se io ho bisogno di sviluppatori e ad oggi la necessità è più la richiesta è più elevata della della quantità di persone secondo me alla fine il modo si trova ma potrebbe essere un argomento interessante da farci una live magari una di quelle plenarie come abbiamo fatto qualche qualche giorno fa nel fidere 2018 pensa come passa il tempo veramente quando ci si non ci non ci si diverte si era un seminario quelli era tre ore tra l'altro io me lo ricordo bene però adesso che ci penso perché quella volta io arrivai in ritardo perché bucai una gomma in strada tentando di ripristinarla col kit di riparazione il problema è che quando la tua gomma è così sottile che manca il copertone cioè tu cioè si squarcia perché non non ce n'è più tu puoi avere il kit di riparazione che vuoi però non avevo tardato solo un'ora non so come ho fatto perché poi non ero da solo è venuta la moglie di mio amico e quindi nel frattempo qualcuno ha intrattenuto la platea e dice com'è chi cioè ci va ovviamente paga non era stato il massimo però fine a volte succede non ci si può fare niente però diciamo in quel caso qualcosa si poteva fare andare a cambiare le gomme prima che diventassero eccessivamente slese lo farò lo farò lo farò e poi c'era proprio il copertone che era di velto ha proprio scoperto la parte interna con la tela che taglia cioè proprio dove c'è proprio rimasta solo la tela la gomma in quanto tale il caucciù non c'era più potremmo dire quindi adesso sono molto più bravo adesso sono ligio da quella volta non mi faccio più fregare quindi come si dice sulle tele non so se c'è un detto ma tra l'altro c'era questo bellissimo effetto di quello che riempie e ripara che è un liquido bianco che usciva e quindi quando ho provato a spostarla perché ho messo la parte squarciata per terra spostando la macchina usciva tutto questo sembrava alien quando c'è l'automa che viene sezionato e spelle quel liquido bianco che gli hanno dato probabilmente latte di mucca per fare l'effetto e quello sembrava uguale cioè sparava fuori questa ovviamente cosa non puoi riparare una gomma squarciata quindi un conto un bochino un conto della macchina nuova ho preso il ruotino quindi mi sono anche che l'ho già usato due volte tra l'altro bucato due volte maledizione ci sono delle strade che sono che sono veramente messe malissimo strano perché siamo quasi sotto elezioni dovrebbero riparare le strade tutti dicono che riparano le strade invece qui ancora siamo messi male vabbè parliamo di cose tecniche via no quella discussione è interessante magari potrebbe essere interessante avviarci un qualcosa di diverso perché poi sui forum si fa un po' fatica bene dicevo è uscito del fi 12.1 è un update così mi sposta anche di di schermo a non devo usare il posso usare il il miei tastini sandro delfi agli alert funziona anche in questa schermata sandro delfi ha appena sottoscritto l'abbonamento con prime che voce sentire voce di questo questo tipo grazie per la subscription così non ti becchi stavolta non riesco a stoppare quindi partirà la pubblicità tra tra due minuti ma in realtà l'ho dilazionata e quindi l'ho un po' di l'ho visto che si poteva si poteva fare ci ho dato un'occhiata perché ha detto ma se io non non la voglio cioè potrei anche disabilitarla solo che dopo non non ti fanno comparire cioè ti ti fanno un po' di ghosting e quindi fanno un po' come le donniciole che che non ti vogliono più che ti dicono non ti voglio più vabbè e quindi ho dovuto accettare il però sì c'era mi ha avvisato due volte attento che puoi rinunciare a una quota del 50 per cento sugli spot ogni interruzione sono 20 centesimi cioè che cosa ci vogliono dovrei fare tre anni in tre anni di live non neanche cumulato diciamo ci sono 40 euro in tre anni di live e probabilmente anche con qualche abbonamento saltuario così che ogni tanto arriva con il prime finché ci rimane il prime e quindi almeno l'hanno almeno l'hanno messa questa opportunità e quindi per cui cioè a me del 50 per cento del 25 che mi interessa anzi così non devo neanche gestire questa cosa è uscito del feed 12.1 adesso che vado a pescarmi la documentazione perché c'è un non so perché sono entrato qui dentro ah sì perché stavo cercando cose su mongodb ok release 1 12.1 dal 4 di aprile perché se l'avessero fatto uscire l'1 era sicuramente un pesce d'aprile invece in questo caso è uscito è una versione di forse riesco a stopparlo basta adesso non me lo fa stoppare più mi frega sempre è una versione di update quindi non è una major release ma è una minor release generalmente si fa la fanno dopo dopo sei mesi se non mi ricordo quando è uscita l'altra non è però passato tantissimo quindi sono stati abbastanza proattivi e in genere è qualcosa che viene fatto per update quindi per per aggiornare il magari riduco se ci riesco se ci riesco l'audio ma adesso lo facciamo che lo a zero così adesso una via di mezzo questo ok lo lascio lì al minimo così non dovrebbe rompere le scatole ok stavo dicendo sì è una release prevalentemente di update cioè viene fatta per molto responsive questo sito per correzioni di bug principalmente o per consolidare delle feature che magari sono state introdotte da poco e invece come dire hanno bisogno ovviamente di un aggiustamento perché c'è chiaramente anche la beta però poi man mano che viene utilizzato e distribuito al grande pubblico che ovviamente dopo lo utilizza più attivamente perché lo utilizza su dei progetti di produzione e da quello che è uscito anche adesso lì non ho ci sono stati dei risultati però c'è stato un po' di tempo fa il sondaggio che Embarcadero fa per per quelli che usano delfi con scritto cosa vorresti nelle prossime versioni sono uscite sono uscite hanno detto comunque come indiscrezione delle cose abbastanza variegate perché c'è chi vorrebbe WebAssembly quindi cose assolutamente nuovissime e c'è gente invece che magari ha dei progetti vecchi da portare ha del codice legacy e quindi vorrebbe dei drive per database particolari quindi vorrebbe delle cose più come feature ad esempio io vorrei molto feature del linguaggio qualcun altro vorrebbe tipo diverso e siamo sempre agli estremi cioè c'è una un mucchio di gente che usa solo ad esempio VCL e gente che invece usa un po' di tutto un po' come me e quindi vorrebbe avere sia a livello di linguaggio che da tanti altri fronti diversi aggiornamenti però puoi decidere cioè è un po' come quando giochi a bullying e fai lo split devi scegliere quale birido tirare giù e quindi scontentare però qui hanno messo ci sono comunque sempre un po' di novità in ogni caso una di quelle più grosse riguarda la toolchain di C++ che io non ho quindi non ho un non ho tecnicamente quello che si chiama RAT Studio che include sia C++ che Delfi o solo Delfi perché C++ non lo uso però ecco questa è la toolchain di C++ è quella che ha avuto gli improvement maggiore perché era roba che probabilmente dovevano rilasciare già un po' di tempo fa e quindi c'è e ho visto comparire l'altro giorno che aggiornavo questo modern e volevo capire un attimo questo modern che roba è perché ho visto che c'è questo 64 bit e questo 64 bit modern che penso forse sia toolchain toolchain fluid integration toolchain però l'ho visto anche in Delfi quindi sarei curioso di capire qual è qual è la la differenza qui c'è tutta la la parte che riguarda C++ forse ho ingrandito troppo il carattere però l'ho vista anche in Delfi quindi vorrei capire se ci sono degli impatti anche a livello di business forse è solo un target ma non cambia più di tanto dovrei capire mi pare che si parli solo di C++ quindi probabilmente questa è una cosa che mi è stata installata ma non è come dire non è non è quella operativa what can you do quindi salto questa roba qui perché C++ ecco una delle novità più secondo me interessanti soprattutto per chi usa e qui non sono di quelli ma alcuni rimpiangono un po' la vecchia versione undocked di Delfi perché l'idea adesso è completamente docked cioè cosa vuol dire che quando lavorate all'interno dell'ambiente come si vede da qui le finestre sono tutte ancorate quindi le potete spostare però fondamentalmente l'idea rimane tutto ingabbiato rimane tutto come dire ancorato con se stesso non esiste a meno che non l'abbiano messo ma mi pare non l'abbiano più messo una versione undocked dove queste finestre sono flottanti un po' come era il vecchio tipo Delfi 7 se trovo uno screenshot dove posso scaricare Delfi 7 che era fatto un pochino così come le vecchie versioni di di Gimp ma questo è addirittura un video non volevo il video sempre quel link fammi caricare questa immagine questa è una versione un po' troppo vecchia forse però rende l'idea questa forse è un po' meglio riesco a aprire un'immagine senza che mi apri immagine un po' piccolina vabbè comunque si capisce insomma ci sono le finestre sono tutte flottanti quindi potevi spostare i form potevi però spostare anche l'objet inspector potevi spostare tutto adesso invece è fondamentalmente docked e quindi è tutto ancorato è tutto è un tutt'uno e le finestre vanno agganciate questo è un po' un problema per l'editor del codice perché l'editor del codice altri ambienti hanno un approccio simile però gli editor si possono splittare ci sono una serie di cose per poter vedere ad esempio lo stesso sorgente due volte qui hanno aggiunto un concetto di area di docking cioè se io prendo questo file e lo chiudo quello che vedo qui è drag your tabs here quindi non penso di poterci agganciare tutto posso agganciare solo oddio non è più non è più dockable ah ok stavo trascinando la parte sbagliata questo lo nascondo questo lo nascondo lì ah perché c'è quello di default ok adesso mettiamo quello di twitch perfetto dicevo c'è questa area dove no tab drag your tab cioè è diventato una finestra dockabile dove io posso dockare vari tab è stato troppo brutale a chiudere quindi all'interno trovano posto i tab ad esempio della finestra e quelli del codice dove io posso scrivere il codice la cosa che hanno aggiunto è questo menu di split dove io posso decidere di splittare la finestra in vari punti e creare due videate sul codice quindi più editor side by side sopra e sotto oppure sinistra e destra addirittura il set dei tab è una finestra che si può spostare altrove quindi si può sganciare per cui ricalca un po' quelle che erano come dire l'approccio visuale che si usava nelle vecchie versioni custom layout manipulation quindi puoi avere un two column multiple row quindi ogni finestra la potete splittare più volte e create varie videate con l'editor qui fa la prova infatti adesso volevo volevo farlo puoi trascinare ah ok quindi io posso trascinare da qui qui dentro e apro due visualizzazioni del codice in automatico quindi se qui io vado scrollo questa rimane dov'è e se decido posso ancorarla anche dopo fa vedere forse qui potrei split write ok mi fa due finestre però me l'ha splittata quindi mi ha aperto quella ok finchè non chiudo il file non mi chiede di salvare perché lo split non è quello è simile a quello di viso studio so che viso studio te lo fa dentro il tab qui invece ti crea tante istanze di queste finestre docabili che secondo me tu puoi tirar fuori anche cioè dopo te la puoi spostare dove vuoi ecco viso studio ce l'ha da una vita e funziona bene però mi pare sia solo orizzontale in questo caso loro lo hanno generalizzato al punto che a questo punto tu te la puoi praticamente undock ecco che te la sganci te la puoi portare fondamentalmente un po' dove vuoi quindi se hai il doppio schermo se chiamo il designer move designer ok puoi avere ah cioè la vedi in questo caso la vedi sync in sync sì di solito il designer o move designer non vedo più sa che l'ho incliccato non so non so bene cosa ho fatto forse mi sono perso la finestra però aspetta che richiamo ok qui sono nel codice code design code sono io che non la vedo o sono no ah ok però ho chiuso troppo ho fatto troppi troppi magheggi quindi l'hanno appena introdotto e quindi bisogna aspettarsi che ci sia chissà quanti glitch però il concetto puoi splittare dove ti pare quindi tu lo metti a destra a questo punto fai le due videate però se te la prendi e te la sposti sotto dovresti poterla mettere scusa questo qui qui sotto e quindi hai vabbè ho schiacciato l'objet inspector però fondamentalmente hai la unit volevo metterla qui dentro come sì il posto è questo però la devi mettere qui sotto ole bastava e quindi c'è se tu scrivi qui ovviamente editi anche sotto perché l'editing è sincronizzato e quindi procedure do something la la fai questa roba qui lui ti porta qui sotto però qui rimane eh può essere interessante anche da questo punto di vista split right quindi tu puoi dire lo metto a destra questo non mi serve più la chiudo mi chiude anche quella parte eh qui vado nel code e vado a progettare puoi editare quindi qui puoi scrollare qui puoi rimanere in alto può essere interessante anche per questo vedere la dichiarazione sotto i metodi quindi ehm non so se c'è un tasto per passare agevolmente f6 no f6 passa la ehm ctrl ctrl tab ctrl f6 no alt f6 se hanno messo qualcosa per per ehm muoversi tra i vari editor non lo so me lo devo un attimo un po' è il pin site non mi interessa me lo devo un po' guardare e più bit me è arrivato ah tra l'altro arriva più bit mi viene sempre in mente ma ehm spero di non aver danneggiato il comando faccio lo shot out ah no perchè l'ho customizzato quindi dovrei far comparire le cose animate eh dovrei mettere quella cosa lì ma andate a seguirlo retro gaming eh ex sviluppatore anzi nuovo sviluppatore perchè ha fatto un dobbiamo fare in delfi la versione adesso mi riporteranno in live il caster game engine il game engine dobbiamo fare il dungeon il il programma del dungeon che hai fatto quello per common 64 da rifare da importare in delfi che forse funziona eh perchè pascal puro potrebbe essere già compilabile in direttamente quindi sarebbe interessante provarlo ehm quindi seguitelo se c'è qualcun altro che stream ma me lo sono scordato ditemelo perchè mi mi scordo non dovrei aver scammato nessuno però ehm quindi c'è questo split stavo guardando se c'era qualcos'altro da capire quindi te lo puoi ehm da un editor te lo puoi splittare a sinistra sopra sotto dove ti pare anche n volte ehm e ehm a quel punto te lo puoi trascinare quindi puoi creare diverse layout lo puoi portare fuori per fare il layout eh mi viene a dire vecchio stile perchè io non lo uso da un sacco ma so che c'è chi sviluppa un multi monitor che ovviamente non riuscivo a usare delfi in questo modo perchè delfi c'è tutto ehm come dire ancorato o hai l'idea che tiene due schermi ehm oppure non riesci a portare delle finestre di qua e di là a meno che non le rendi ehm flottanti però la parte del codice era sempre era sempre centrale ecco quindi quella non la potevi ancora spostare adesso lo puoi fare ci puoi creare delle copie del sorgente quindi navigare in maniera possono tirar fuori diventare una una window ah to make it float usi control quindi se io la muovo così cerca sempre di attaccarsi se tengo premuto control invece la porti praticamente dove vuoi quindi potresti rilasciarla qui e avere la parte esterna questa te la sposti adesso non ho un altro monitor però la potrei mettere c'è un monitor qui di fianco adesso l'ho portata fuori la porto dentro e magari hai diverse cose di codice magari se hai qualcosa da copiare da un codice esistente prendere spunto io di solito prendo il codice lo incollo qui come commento e lo tengo lì e pezzo per pezzo me lo vado a riditare a riscrivere a volte non è il massimo forse questo è un metodo più più intelligente cioè splitti sotto magari o quanto meno si può fare ci sono delle possibilità in più quindi la potrei toccare ma quindi la potrei toccare anche qui sì sotto però anche qui dentro cioè se la metto qui no non la metto non ci sta come tab sta sopra sotto però sono sempre secondo me indipendenti cioè la fianchi ma non diventa un tab no anche perché poi qui non ci capisci più niente cioè c'hai già questi 3 tab che sono la progettazione del codice eh vabbè è interessante comunque come designer and code eh potatoes and views the same file ok quindi sono indipendenti ma editano lo stesso file eh only one file ma multiple editor views ok qui ti dice attento che se modifichi in uno le modifiche vanno sull'altro focus tracking e nelle versioni di RAS studio la finestra aveva un colore blu più forte si adesso hanno messo eh probabilmente qualcosa di più è più vivida la parte si nota di più il tab quindi se questo lo chiudo lui non mi chiede di salvare perché finché non chiudo tutte le finestre di quel file è come se quel file non lo chiudessi quindi anche questa cosa interessante ehm per il background del bar ok hanno aggiunto hanno reso un po' più evidente il colore sì perché prima era un bluetto che diventava un blu più scuro adesso è proprio grigio è blu e quindi si vede meglio su quale finestra sei perché non era proprio così non era proprio così evidente nelle versioni precedenti questo è una cosa abbastanza sbrigativa si fa eh dockpaint puoi muovere il dockpaint dove vuoi ehm dockable editors puoi si puoi mettere anche di fianco e puoi salvarti come sempre cioè qui queste impostazioni si possono salvare con l'opzione cioè la save desktop dove tu puoi mettere le finestre come ti piacciono salvarlo e dagli un nome ad esempio io ho fatto save desktop ho salvato il mio desktop con il profilo custom twitch quindi quando scelgo questo profilo mi imposta le finestre in un certo modo me le allargate se metto presentation se allarga e lascia più spazio al codice se metto layout di startup mi da tutto vuoto quello di debug mi fa apparire le finestre di debug e questo è anche il desktop layout che viene selezionato con il debug perché potete salvare e poi dire vado a impostare qual è la configurazione che voglio per il debug qual è quella che voglio quando apro generalmente un progetto e quando chiudo tutto qual è l'impostazione dell'ide e delle finestre che mi piacciono come startup all'avvio questo ci hai sempre potuto fare adesso c'è cioè tra le cose che puoi riassettare c'è anche il codice perché oltre che a stare qui dentro può stare anche altrove quindi questa bestiaccia lsp è sempre è sempre un problema code completion feature che c'era già quindi a cosa si riferisce code completion by different technologies per delfi c'è il delfi lsp c++ usa un'altra cosa usa il visual assist che forse è una cosa interessante questo lsp language server è un programma che leggendo i file fornisce dell'informazione nell'ambiente per sapere cosa proporci quando noi invochiamo il completamente automatico cioè sono qui inizio a scrivere al momento non fa nulla quando schiaccio metto il punto compare questa roba qui e questo è il fondamentalmente il code insight una volta era tutto integrato adesso queste informazioni vengono da un processo che gira all'esterno di delfi dovrebbero aver raggiunto una sorta di auto invoke quindi code insight aspetta dove lo trovo no si qua dentro editor non il display non me lo ricordo mai non so perché sotto delfi aspetta deve essere per forza nell'editor language ok default delfi abbiamo syntax highlighter delfi error insight anche qui c'è la possibilità di farsi sbisciolinare cioè segnalare con la riga rossa niente oppure gli errori oppure dai warning in su quindi warning errore suggerimenti warning errori oppure tutto show error insight editor gutter fa vedere qui il gli errori però volevo vedere qua code completion auto invoke c'è questo immediately che è quello che fa sì che se io qui inizio a scrivere s elf parte questo era un po' legnoso dovrebbero averlo reso un pochino più fluido poi c'è ecco questa cosa qui cioè tu selezioni qualcosa vuoi trasformare un array se tu selezioni la parola fai schiacci e schiacci fai la parentesi quadra lui te ne mette uno all'inizio uno alla fine te lo racchiude stanno un po' aggiungendo queste queste cosine ecco volevo capire pop up as you type ok questa feature non era ancora attiva quella dove inizia a scrivere lui ti propone adesso è attiva ehm variable names ehm ok variable names ehm bo 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 non venivano suggeriti perchè adesso se gli dico di creare una variabile che cosa combina ah cioè lui fa anche completamento vabbè questo poi è abbastanza rilevante auto invoke function is on quindi adesso l'hanno attivata secca questa feature e quindi questa auto invoke mi aspetto di vederlo qui e poi c'è il tempo forse questo è un po' aggressive very short delay potrebbe essere un pochino più quindi se scrivo ecco dopo un po' parte non subito però se era un po' problematico ehm appiazza automatico o li presenta ben enter accetta la selezione altri tasti come spazio eccetera non funzionano ehm quindi non hai qualcosa di autocompletato ok prima cosa succedeva che per iniziavi a scrivere lui partiva e lo e lo spazio era sufficiente per completare quindi mentre tu scrivevi una cosa che non andava autocompletata e facevi lo spazio non ti accorgevi che lui già prendeva una selezione e alla fine te la trovai completata adesso se faccio lo spazio lui non completa lui deve ti propone ehm o fai invio o fai tab e a quel punto lui va avanti che prima appena schiacciavi partiva subito ehm sì in effetti è un pochino era un pochino aggressive forse un po' troppo ehm ok normal con completion invoke feature is off by default turn it on al momento è on quindi eh nelle versioni precedenti è spenta e non funzionava proprio benissimo aveva questo difetto adesso è stata eh tutti in versione tutti i debugger a parte del figuin 32 64 usano lo stesso lrdb15 quindi è lo stesso debugger quindi tranne qualcuno mamma mia che ottimo una cosa che purtroppo non hanno risolta che sono andata a vedere subito perché eh sul gruppo di delfi club italia abbiamo non mi ricordo se avevo fatto anche un comando per provo così sì l'avevo fatto il gruppo eh si discuteva che è rimasto e c'è ancora un bug che è una roba abbastanza eh stupida nel senso che dovrebbe rifacere soluzione ma ancora non viene toccata cioè nelle versioni precedenti quando andavo a capo e facevo contro spazio anche in questa eh ti potevi selezionare un metodo di cui fare l'override questi sono tutti i metodi ereditati se voglio ridefinire paint lo scrivo e o do il tab o do l'invio il problema è che quando do l'invio lui lo mette nel posto giusto ma eh per qualche motivo questo viene tabbato questo viene tabbato c'è un un errore di calcolo e quindi bisogna come dire rimettere un po' a posto il il codice eh o formatarlo però a quel punto lo formati in automatico tutto eh altrimenti te lo devi un po' gestire a mano non so se questa cosa cambia magari con con l'invio no è uguale non è sempre così invasivo eh col tab sembra un po' peggio se ne è già uno un po' peggio ma lì probabilmente c'è qualcosa che che va sistemato ehm però mi sembrerebbe banale come eh boh si vede che non è votato abbastanza oppure non è prioritario sicuramente l'altro è prioritario cioè non è che capita continuamente di fare questa cosa però nel momento in cui stai codificando e vai e questo è molto odioso e vai a fare questa cosa cioè ti disallinea il codice te lo devi andare a sistemare ehm Android Target API Level 34 è stato tirato su il API Level 34 vuol dire che serve ehm c'è l'SDK per questa versione perché adesso le quelle più vecchie eh eh c'è un arriverà un requirement da parte di di Google che non consente salvo persone graziate o che fanno richiesta di di caricare software che usano API più vecchie di un certo top cioè ad oggi se provate a pubblicare sullo store un'applicazione per che ne so Android Honeycomb oppure Donut Eclair che sono vecchissime ovviamente non ve la accetta perché c'è un un livello minimo con la quale si può pubblicare eh i rilasci di frequenti di delfi sono spesso dovuti a questo cioè la necessità di dover abbracciare delle cambiamenti che vengono fatti da Apple e da Google la gamba tesa eh se non era oggi serve a meno la 33 penso di sì perché questa della 34 è un requisito che diventerà eh effettivo mi sembra d'agosto forse c'è scritto qualcosa anche qua sotto non l'ho ancora visto eh per cui di solito arrivano un po' dopo stavolta sono arrivati prima cioè lo sanno probabilmente l'upgrade era abbastanza easy in questo caso ne hanno approfittato per raccorciare un po' la tool chain cioè sviluppare per Android in delfi è un po' no non è rognoso nel senso che chiaramente io sono abituato alle tempistiche su Windows dove quando ho un'applicazione faccio run e in un microsecondo l'applicazione parte eh anche se è appena è un po' più complicata di questa comunque parte subito su Android siamo un po' più in difficoltà volevo vedere quali erano le tempistiche e questo lo volevo testare per vedere quali erano le tempistiche di eh trasferimento e attivazione di un'applicazione su Android potrei andarmi a prendere uno dei template che ci sono già tipo questo con il master detail dove dentro c'è qualcosa allora facciamo test 12.1 eh selezione cartella vai metti lì file giusto per avere un'app da testare con Firemonkey questa parte già con Android ok lsdk dovrebbe essere a posto vediamo una controllata e vediamo che sia questo mi dice che non è però in questo percorso mi sono mica scordato di disinstallare no qui c'è quindi ah mannaggia ho importato i setting forse dalla versione precedente e quindi mi sono mi sono mi sono autofregato mi sa parola strana questa cosa anche perché io installo sempre con con delfi quindi andiamo a vedere se c'è qualcosa che manca catalog repository effettivamente non c'è non c'è lsdk qui quantomeno eh però è un po' strana sdk profiles boh aspetta che proviamo a fare una cosa intanto proviamo a dirgli di questa roba è a posto questa roba è a posto a fare un build linking vediamo se scoppia no ce l'ha fatta quindi boh non so come mai da un feedback negativo su quei percorsi forse perché sono vuoti would you like the day of the platform sdk now forse era meglio ci dicevo di no aspetta che mettiamo mettiamo queste maschere al loro posto no ok questo ha qualche problema questo invece sembra andare regolarmente sicuramente quindi dovrei controllare si comunque è molto più veloce cioè ci mette veramente io per quel che meno non ho potuto zonare l'app su Google per le discorse più high level eh questo a volte è un problema adesso dovrebbe adottare praticamente gli stessi tool di android studio questa dovrebbe essere la modifica che hanno fatto ovvero installa questa roba qui che dovrei avere installata il jdk eh di solito siccome uso solo delphi per fare lo sviluppo mobile lascio installare lui l'api andiamo a vedere se c'è questo eclipse mi sa che non ho disinstallato il più vecchio e quindi questo mi frega dovrò dovrò un attimo fare un po' di manutenzione perché mi sa che il fatto che ne abbia due qui è la data di uscita di delphi quindi questo l'app covid sì sì l'avevo commentata bellina comunque molto molto chiara era quindi come dicevo speriamo di non doverla riutilizzare facciamo gli scongiuri eh open jdk 12.1 updated qui forse è colpa mia che ho fatto un'installazione non proprio pulita pulita quindi dovrei dargli un'occhiata questo però sembra funzionare adesso faccio una roba siccome ho qui il telefono provo a vedere più che altro vabbè l'installazione a volte è un chiudi tutto no non mi serve questo mi serve il debug usb usb per trasferimento file forse potrebbe andare bene trasferimento file non mi ricordo se devo mettere il tethering o adesso ci provo lancio la mia mitica utility se non lo trova vuol dire che demon not running ok ed è scoppiato quindi vuol dire che ah ci manca era apparso un pop up con scritto consenti se non lo consento non scopi ok ecco il mio telefono voilà che bellino questo allora facciamo un dovrei vederlo giusto se faccio un refresh non lo vedo se faccio un refresh il fatto che non lo vedo è abbastanza strange proviamo a cambiare un attimo la modalità questa cosa la devo sistemare secondo me e non lo vedo partire quindi non non ce l'ha visibile vuol dire che non riesce a agganciare però non c'erano molti comandi probabilmente dovrebbe essere abbastanza sdk manager page dove me l'avrà installato boh utenti pubblica documenti pubblici quindi il mio dubbio è che lui non abbia installato proprio nulla no c'è qua di che 25 25 per esserci c'è però non è quello che piace a lui ce ne sono un po' troppi eh mmm sicuramente questo è il più vecchio 2305 che voglia no non vuole questo come rimpiange gli smartphone windows no dai quelli quelli no eh niente devo lo devo reinstallare in qualche modo perché mi sa che non so neanche bene lui cosa stia cercando di preciso quindi add new cdk 55 continuo a segnalarmelo così secondo me non gli ho fatto installare tutto quello che andavo installato temo ndk a meno che non devo andare più in profondità ma questo è l'unico giusto andrò ndk 21 ma qui sembrerebbe esserci tutto ok questo l'ha preso questo non gli piace come fai a dire che non è valido perché dici che non è valido sdk ndk sdk ndk sdk mi sa che mi manca qualcosa io avevo il lumia lhtc windows mamma mia ragazzi se penso a quanto tempo è passato da quelle no non capisco non capisco perché questi platform tools non dovrebbero più esserci quindi o non ho un'installazione completa oppure mi manca qualcosa a livello di dsdk command line tools command line tools adb adb non c'è perché sono nuovi questi niente questo lo devo rivedere attualmente builda ma non mi trasferisce il il pennino io avevo un palm non so che fine ha fatto povero palm forse l'ho venduto era veramente gagliardo bianco e nero uno dei primi quando nasceva in pochi pc nella platform tool forse mancano si infatti non so se devo installare a parte devo devo controllare bene next operation più che altro devo installare anche un po' di quei pacchetti perché ce ne sono troppi però ce ne sono troppi fa casino e può pare che tenga un sacco di spazio quei file quindi dovrò provarlo ecco easy watch text cursors si adesso in windows accessibili to the id jose cos'è sono sarà si grazie non lo squalo screen reader ah ok hanno riabilitato una cosa che era spenta che impediva lo screen reader number box lavora con valori negativi quindi questa la proverò un'altra volta quindi nella vcl abbiamo la number box che io l'ho ancora utilizzato mi piacerebbe poi è mai sviluppato in dotnet ciao ma zeor se ho letto bene si ci sviluppo purtroppo ancora molto saltuariamente per clienti eh però si l'ho utilizzato vb6 vb.net l'ho utilizzato preferisco c sharp perchè c sharp è poco verboso vb.net è troppo verboso del film mi piace perchè è giusto è l'equilibrio che mi piace però si adesso è un po' è un po' incerto il destino di del buon disegno bel di dotnet perchè comunque continua a essere sempre presente ma lo trattano un po' come un figlio minore ecco cioè figlio di un dio minore scusa eh non un figlio minore perchè i figli minore dovrebbero essere trattati come i maggiori quindi spero anche perchè eh però tutti i template la documentazione la aggiornano sempre in maniera un po' pigra ci arriva sempre dopo il fatto è che comunque molte delle tecnologie come lo stesso dotnet eccetera sono open source e quindi c'è una comunità abbastanza attiva c'è chi eh si sape la sua evoluzione ma in realtà nasce proprio come linguaggio nuovo quindi l'idea fino almeno ad oggi è averli tutti e due perchè dotnet una delle sue prerogative è tu scegli il framework scegli il linguaggio che vuoi e compili il tuo programma nel suo linguaggio intermedio tipo bytecode ma insomma diverso da questo punto di vista e quindi ovunque tu voglia usare la tua libreria anche scritta in vb dotnet la puoi usare in un altro progetto vb dotnet o c sharp e quindi i linguaggi fondamentalmente sono intercambiabili c'è anche f sharp c'è di compilatori dotnet c'è anche un delfi dotnet c'è un delfi dotnet c'è un delfi dotnet alternativo c'è addirittura un cobol dotnet quindi non ha senso impararlo ora se inizi da zero e devi proprio iniziare a meno che tu non abbia delle conoscenze pregresse di altri linguaggi e quindi perché ti semplifica la vita secondo me in ambito dotnet è meglio c sharp cioè sei un po' più supportato con gli esempi che trovi in giro è più facile documentarsi però lo uso per lavoro beh se lo stai già utilizzando sia vb che c sharp secondo me con c sharp trovi molta più una base utenti più più larga quindi più documentazione più articoli sei un po' più agevolato va detto che se le cose su cui tu cerchi aiuto sono le classi da utilizzare o le funzioni come si diceva prima il linguaggio essendo come dire non determinante da questo punto di vista quando hai scoperto come funziona la classe file stream di dotnet che tu scriva new con la n maiuscola file stream con un dim in visual basic dotnet o che tu scriva var uguale new con new minuscolo in c sharp non è che poi cambi anzi tecnicamente non cambia proprio nulla ecco quello è il quando tu fai una build quel codice genera praticamente lo stesso codice compilato quindi teoricamente diciamo che sì secondo me sono un po' stancati di di portarsene un po' avanti entrambi perché sì sharp viene spesso aggiornato con nuove feature quindi sicuramente è una predilezione però ecco da un certo punto di vista with dotnet si si utilizza ecco non è ecco sì sharp viene aggiornato con delle feature di cui io farei in alcuni casi anche a meno altri invece sono molto interessanti perché alcuni sintassi che accorciano molto il codice secondo me cioè come come si definisce syntactic sugar cioè si scrivi le cose in maniera più sintetica ma tanto io non scrivo tutto il codice ho un'ide cioè se usi viso studio io quando devo creare una proprietà scrivo prop e lui mi genera il blocchetto di codice già pronto e mi predispone già per mettere il tipo della proprietà e il nome che sia scritto molto sintetico molto allargato tanto io uso refactoring uso il tool di sviluppo che genera codice quindi più chiaro è meglio è dal mio punto di vista però questo è una mia è un mio vezzo e quindi è un altro discorso da questo punto di vista però però sì vb.net si usa anzi alcune parole chiave a volte sono un po' più esplicative perché ad esempio quello che in csharp è static in vb.net che è shared shared cioè è più chiaro di cosa diventa assente se sviluppi come si più male va bene anche per tutte le applicazioni io ad esempio lo utilizzo in quell'ambito effettivamente però se anche lì iniziano le lambda che sono un po' più verbose cioè non non riesce secondo me a essere essenziale sintetico come si sciarpe quindi viene un pochino considerato come dire un po' un po' un po' meno da un certo punto di vista però al momento che io sappia non hanno valutato di eliminarlo quindi continua a essere supportato per cui non dovrebbe esserci una cosa che non mi piace di vb.net sono le link sono incasinate cioè perché da scrivere cioè la sintassi non è sì esatto è quello che quello che dicevo prima è chiaro che un un linguaggio un po' più un po' più sintetico un po' più essenziale ecco minimale ti aiuta perché lì sono delle espressioni molto espressive ecco non usano vabbè detta così sembra un come dire una una supercazzola però chiaro che se devi dichiarare più volte tipi devi scrivere molto la leggibilità diminuisce perché in quel caso specifico cioè vb.net secondo me il suo difetto più o meno che è molto verboso se sharp lo è troppo poco forse quello lo è tanto alcuni sintassi si allungano anche se sì alla fine poi anche in questo caso era sempre una questione poi di come uno dei gusti quindi da questo punto di vista dipende un po' anche dai gusti però link va usato perché link è fantastico e quindi number box progress bar state è supportato dagli stili vcl perché che problema aveva progress bar lo stato inteso state normal ah sì perché diventa di colore rosso quando si ferma qualcosa del genere value visible position dov'è? qua ci la metti a 50% post in error diventa rossa e così diventa normale perché con la gestione degli stili non andava forse non c'era delfi è bello mi chiedi se delfi è bello mi fa una domanda direi molto anche lì rimando per chi vorrebbe dare un'occhiata su cosa si può fare con delfi giusto per non ripetere tutto c'è un nel canale youtube c'è una sezione magari la faccio anche vedere così ho fatto un paio di webinar uno che è abbastanza recente aiuto perché non sono pubblicati sul mio canale ma sono altrove in questo caso su the community bay che è un aiuto è partito dove ho fatto vedere un po' tutto ah tanto l'hanno fatto l'hanno fatto solo fino a un certo punto l'indice però dove ho fatto una carrellata di quello che come dire si può fare ecco alla fine dove sono retta è diventato un paio d'ore ma c'è una parte che si può schippare di presentazione però con qualche slide e anche dove è nato però ecco qui ho fatto vedere un po' tutto cioè tra lo sviluppo windows console per linux per android abbiamo fatto forse una webpi adesso qui facevo vedere un po' come funziona l'editor l'editor della parte visuale di firemonkey qui probabilmente ho fatto ruoteare un vedermi doppio mi fa straccia c'è inception come ci sono delle animazioni quindi il tasto che ruota che ovviamente è una cosa come dire che serve più per il cinema che non abbiamo fatto un test di app su android quindi abbiamo provato a lanciare l'app su android si vede che c'è l'assembly questo è il gioco della tombola che abbiamo fatto durante una una live e un server rest in questa live abbiamo fatto di tutto abbiamo fatto aiuto c'è un moschino abbiamo usato anche docker quindi abbiamo lanciato un server rest fatto con delphi in docker abbiamo fatto l'app mobile con l'onboarding qui ho fatto una carrellata di tutte le applicazioni che ho fatto nelle varie live questi sono tutti i prodotti che attualmente usano delphi come ambiente di sviluppo e sono dei nomi abbastanza noti perché abbiamo se non riesco a mettere schermo intero fai le studi famose 1password l'interfaccia di windows di xamp le vecchie versioni di skype quando ancora funzionava bene c'è un gioco che si chiama rise of legends vizuino che è un'idea per lavorare con arduino si c'è una versione community ho anche un camino si un camino c'è un link c'è un sito dedicato la community è gratis quindi quella si può scaricare non è l'ultimissimissimissima versione però in delphi diciamo che conta fino a un certo punto perché non abbiamo dei supremo prodotto italiano tra l'altro grazie a che mi hai testato anche l'emoticon che compare sullo schema perché non le avevo rimosse c'è anche pi scripter che è quest'icona e dev c++ che sono molto conosciuti pi scripter ce l'ha anche installato un editor per python gratuito open source grazie per il ora appena iniziato a seguirti ok così funziona anche il follow stiamo provando tutti gli area stasera casualmente è un editor per python che ho usato per fare qui delle live su questo canale è fatto tutto in delphi questo quindi è proprio un editor fatto e finito quindi ci sono tutti i progetti c'è completamente automatico ha tutte le sue la documentazione in linea c'è l'interprete qui sotto pronto puoi fare l'anari programmi fare il mitico post mortem che io non sapevo cos'era ma ci stupideresti con la tv soprattutto in ambito gestionale client server si client server pytorch supporta parli di questo di delphi di delphi lo supporta perchè ad esempio qui ah forse riesco a farli partire questi perchè tra delphi e python c'è una questa è un'applicazione delphi con le librerie che ci sono in delphi fatta in python quindi c'è un'integrazione molto forte data da dei componenti che si chiamano python for delphi il bello quale è che sono su github sono open source c'è anche quest'articolo getting started che spiega un po' tutto e adesso metto il link qua così è comodo sono dei poi c'è un filmato che fa vedere tutto sono dei componenti che una volta installati consentono di portare cose da delphi in python e da python in delphi perchè python è dinamico come dire è molto dinamico un sacco di librerie soprattutto per le AI e tutte queste cose delphi è tipizzato è rigido e quindi sono dei compagni perfetti perchè l'uno fornisce all'altro cioè in python devo fare un'interfaccia voglio fare un'interfaccia che sia quantomeno un po' carina qui non mi ricordo se avevo fatto qualche programma e quindi posso usare le librerie di delphi ma anche lo stesso delphi qui non parte forse gli ho vediamo se mi fa partire qualcos'altro click me thanks ok cioè in delphi puoi fare visualmente un'interfaccia con un drag and drop quindi in maniera molto veloce e o chiamare da delphi delle cose in python oppure utilizzare le librerie che si usano in delphi per fare interfacce grafiche direttamente da python perché ci sono librerie che si chiamano vcl che è per windows e firemonkey che invece è cross platform quindi è windows mac si è orientato agli oggetti abbiamo fatto una live l'ultima live che abbiamo fatto su youtube è fatta abbiamo parlato proprio della programmazione oggetti in delphi infatti questo progetto che ho appena creato che qui c'è una finestra qui sotto abbiamo una abbiamo una classe abbiamo dei metodi abbiamo cose private public quindi il delphi diciamo è ibrido quindi come per la mia macchina come dire l'ibrido mi piace nel senso che puoi scegliere il paradigma che vuoi funzionale oggetti eccetera ecco la cosa che chiaramente lo contraddistingue di più che è il netto di scrivere il codice mi ricordo le windows form ecco prendi è un windows form che funziona perché qui non hai bisogno di framework particolari sono tutti i file che contengono però diciamo è l'equiparazione quella cioè tu puoi mettere casale di testo puoi mettere un menu principale puoi mettere che ne so un un memo che è un editor multiriga vari pannelli ecco nel corso abbiamo fatto sono no pericolose no però sì diciamo che windows form sono create un po' per chi proviene da vb6 per poter sviluppare in delphi però delphi invece le supporta appieno che che applicazioni posso tirare fuori qui ci sono i suoi esempi obiett pascal vcl c'è ad esempio lo stack panel c'è la title bar cioè hanno fatto come dire cose molto specifiche particolari per esempio questo è un progetto di esempio che si trova in giro che si trova installandolo e c'è la customizzazione anche della del menu in alto dove tu puoi cambiargli di colore integrare la tua come fanno alcuni applicativi sono sì sono nativi cioè produce un exe e l'exe lo spari dove dove vuoi non hai bisogno di installare nessun runtime perché proprio codice compilato per la cpu e per windows quindi puoi scegliere in questo caso queste sono è la vcl che supporta solo windows puoi scegliere windows 32 bit ma gli puoi aggiungere anche il windows 64 bit se invece che queste librerie si fa un'applicazione con FireMonkey adesso ce la faccio eh magari parto da un template così c'è già dentro qualcosa c'è anche il 3d ci sono un po' di cose questo che è un master ah beh l'abbiamo fatta prima scusa a riapro quella di prima la faccio prima questa qui ecco questa è è un'applicazione cross platform e quindi gira fondamentalmente su android su 64 bit ios sul simulatore su mac su mac con arm quindi c'è intel arm windows 32 bit windows 64 bit e ce ne manca una ci manca perché la devo installare però se l'andasse installare che sarebbe una cosa utile con un pacchetto aggiuntivo che si chiama fmx linux la file visuale anche con con per per linux l'autocompiling non so che non so se è quello che credo io ovvero che tu man mano che modifichi fa il build solo mi sembra che ci sia anche se a me non piace molto build log page no non è qua compiling e running c'è una background compilation poi c'è questa quindi io di solito non la spunto compilo come dire a richiesta quindi però c'è anche la possibilità di attivarla di spegnere anche il progress così non ti fa vedere vabbè questo normalmente è spento però però questa applicazione è molto semplice però se la provo su windows il tempo di compilazione quando faccio run compila sta girando e mi lancia l'applicazione qua c'è c'è il menu qui ovviamente la vedo la vedo su windows su mobile gira gira uguale che poi prima avevo problemi con la sdk ma in realtà noi riusciamo a vederla ce l'ha un'applicazione che ho installato qui bravo l'ho spento invece di accenderlo c'è anche il supporto c'è l'impronta digitale c'è un ce l'ho qualche applicazione tipo questa è l'applicazione on board che ho fatto quindi fai avanti 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 ecco questa qui caricata su windows si vede praticamente uguale però qui allo stile ecco questo andrebbe un po' svecchiato ho preso è un template un po' vecchio che c'è un po' di un paio d'anni posso usare anche il dito adesso qui in live non si vede ma sto facendo swipe se faccio indietro torno al precedente se arriva all'inizio questa roba qui come codice è abbastanza ridotta poi c'è il supporto 3d c'è ancora il tardis che gira questa applicazione ah ecco qui che inizia a comparire i warning che va aggiornata ecco questo è un modello che ho trovato del tardis gli ho messo uno sfondo e gli ho messo le animazioni per farlo roteare però è praticamente zero righe di codice non c'è non c'è righe di codice come piace perché è bello da vedere c'è questo che ruota su se stesso perché sì c'è un componente diciamo che è molto simile a flutter da un certo punto di vista però è molto è coding quindi cioè scusa con meno codice questa applicazione che gira fondamentalmente questo è tutto dichiarazione dei componenti non c'è niente di più l'unico codice che c'è che quando clicchi sul pulsante lui chiude il menu e quando clicchi sul pulsante riapri il menu quindi se clicchi sulla lista lui dice il multi view è quel menu che si che si apre si chiude che si chiude cioè alla fine non c'è c'è solo un file qui è quello il codice praticamente ha scritto una una riga sì sì ci sono tutti gli enum c'è tutto quello che ti aspetteresti a livello di linguaggio in visual basic.net però non è visual basic.net ma è pascal potenziato nel senso che ha i metodi anonimi e closure quindi c'è tutto i generics gli attributi c'è c'è tutto di più per vedere qualcosa bisogna andare un po' c'è c'è anche il sorgente che è molto comodo qui non vedo attributi no qui qualcosa c'è questo è un attributo ed è abbastanza comunque leggibile a livello di codice qui before the extraction di un oggetto vedi che se questo è segnato crea questa lista di puntatori aggiunge il range fa un ciclo cioè il codice non è non è non è difficile da come dire da capire scope denums questo è un enumerativo ad esempio tipo con questi sono i valori ai set agli array è per questo che è un angolo top left top right sono vari tipi di angoli e poi ha un insieme di valori che possono essere uno di questi per fare un set che è un tipo che c'è incorporato in poi se è qualcosa che tu associ a un componente visuale gli enumerativi li vedi qui che i booleani li vedi col true false questo che è un enumerativo lo vedi perché c'hai fondamentalmente la scelta di come quindi vengono tradotti e vengono questo non è altro che un'impostazione live visuale di una cosa che scriveresti nel codice quindi la produttività è abbastanza abbastanza spinta quindi però è roba che c'è nella community c'è tutto c'è anche la parte di android mobile manca la parte linux credo che è solo una versione enterprise comunque nel video che avevo fatto abbiamo visto anche quella parte lì abbiamo fatto la prova su windows abbiamo fatto la prova anche su linux perché qui si vedeva che lanciando ubuntu su windows questo è ubuntu lanciato dentro windows quindi comunque linux lui aiuto forse me lo lascio andare mi occupa troppo banda ecco l'applicazione che vedevamo prima praticamente parte come si vede male forse perché non ha banda da lui parte però si nota che è linux perché si vede da qui e si vede da da come insomma è fatto il il programma in sé e anche dall'icona si vede che c'è l'icona di ubuntu anche questo tutta roba documentata c'è lì la cosa carina è che da windows lancio dentro linux un'applicazione che windows emulandolo me la fa vedere in windows integrata in windows ma è un'applicazione linux quindi windows linux windows c'era un po' di poi c'è chi lo usa anche per dispositivi embedded cose di questo tipo con qualche framework dedicato però sono sono cose abbastanza particolari però diciamo che è un contellino svizzero si ci si fanno un sacco di cose incluse le applicazioni web ecco sp.net sicuramente è un altro un altro mondo però del mvc framework per chi è abituato ad esempio a mvc su sp.net c'è un framework ed è tutto equivalente in realtà ce ne sono quattro e sono tutti italiani che fondamentalmente fa un po' le le stesse cose chiaro che se devo dichiarare un un controller ecco qui non so se c'è un po' di codice questo è il tipico controller quindi faccio la mia questa è un'entità faccio la mia classe metto il path metto il controller metto l'azione e questo diventa un endpoint di una web API ci abbiamo fatto anche una live sopra quindi ci siamo divertiti anche in questo caso e le abbiamo un po' provate tutte come dire ok qui che altra cosa c'era pocketbar state ok c++ non mi interessa e poi hanno fatto improved dei bidataset improved è un po' generico sarebbe interessante sapere il dettaglio ma penso che comunque ne parleranno nei prossimi giorni tanta giù di supporto per firebird versione 5 che è un database open source conosciuto è conosciuto l'ho sentito nominare anche da persone da cui non me lo sarei aspettato che conoscevano questo database e postgreSQL versione 16 FireDAC è la libreria per collegarsi ai dati tramite tramite Delphi ovvero qui probabilmente hanno usato ah no qui hanno usato il prototype che genera dei dati casuali però se voglio collegarmi a un database all'interno di Delphi qualunque che sia l'applicazione VCL FireMonkey o Crossplatform tanto la libreria Crossplatform ho una famiglia di componenti che stanno appunto dentro non so se li trovo qui FireDAC c'è proprio questa sezione dedicata dove c'è i classici la connection la transaction quindi questi si possono creare runtime per scrivere sullo codice oppure puoi fare drag and drop c'è la tabella in memoria componente per fare la query richiamarle store to seed la tabella ha tutti i suoi driver che sono integrati direttamente nella libreria tra cui c'è SQL Server MySQL SQLite c'è MongoDB che sto studiando perché mi piacerebbe fare un approfondimento e portarlo ai TDEF CON sempre se accettano che ne parli perché non non ne sono sicuri l'ho proposto poi dopo non so se c'è ci sarà breve a maggio i TDEF CON Spring Edition una conferenza di spazi scatenati 24 maggio e al momento non c'è ancora la timetable cioè in realtà c'è ma non c'è ancora ancora nulla direi timetable c'è un link su un blog però al momento ci sono vedo queste due probabilmente sono tutte da c'è c'è tutta la i contenuti da definire questa è una delle tante conferenze su DELFI che è sempre abbastanza interessante e poi però come dire Nord Italia quindi e poi il DELFI Day che è a giugno mi sembra 11-12 giugno anche qui ancora programma in corso di definizione con vabbè i prezzi cioè chiaramente è una giornata fatta più per mangiare assieme questo è il costo del pranzo che non che non per altri scopi anche perché poi c'è sulle sessioni materiale pranzo coffee break ma sì c'è poi però sono tutti eventi secondo me per chi sviluppa o non sviluppa in DELFI in ogni caso si parla sempre di svariate cose e quindi andando a vedere anche edizioni precedenti tipo 2023 a parte Piacenza si è parlato adesso non mi ricordo perché inizio un po' a confonderle però vabbè a parte la novità si è parlato di monitorare dei servizi con questo tool che si chiama cum tecniche di logging e debug poi questa è solo una giornata è quella di di Piacenza poi abbiamo fatto quelle online a cui ho partecipato anch'io ci sono tutti i filmati tra l'altro sul web esatto poi ci sono linkati direttamente qui qui si è parlato di Firebird quindi di accesso ai dati componente la libreria ORM per DELFI erano tre belle giornatine piene di roba si è parlato di NATS che è un sistema di messaggistica di API REST di GraphQL si è parlato un po' di tutto di un framework per sviluppare mobile con DELFI in maniera un pochino più raffinata perché è un framework molto interessante sempre applicazioni native qui non si fa applicazioni tipo Electron cioè con il browser integrato né applicazioni con framework sono tutte applicazioni che girano direttamente nel sistema senza aver bisogno di runtime per dire come nel caso di .NET i Firemonkey hanno fatto qualcosa sulle bitmap sono trasparenti sì questo mi sembrava di averlo letto che alcune diventavano o diventavano neri o come sfondo oppure non lo diventavano non so qual era il difetto questo non T-Rest Client supporta certificati dalla local machine sintassi per i colori decimali string to color qui c'è una funzione che è stata estesa con altri standard sì sul web ormai si usa così copiare dal REST debugger che REST debugger è un'utility integrata che serve per chiamare API REST anche qui la comodità di questo tool è tipo un postman però molto minimale però la cosa carina di questo tool è che tu hai una tua web API tipo il classico json placeholder un API fake con dentro dei dati tipi dati di utenti questi sono dei dati un API ti prendi questo indirizzo te lo copi qui provi a mandare la richiesta e vedi se ti arriva la roba intanto vedi già una risposta e te li vedi anche in tabella questi sono id1 brett sono questi dati qui id1 brett che sono stati resi tabellari fai copy components fai ok vai qui li incolli e hai tutti i tuoi componentini adesso non andrebbero messi qui ma magari isolati però hai il tuo client hai la richiesta hai il componente che contiene la risposta hai la tabella in cui archiviare i dati e l'adapter che converte da ci butti dentro magari una una griglia ci metti il tuo data adesso sono un po' componenti buttati un po' la rinfusa per fare la cosa velocemente align la linea dappertutto se vuoi ci puoi aggiungere anche un navigator questo lo metti in basso vabbè ti fai tutta la tua interfaccina questo lo colleghi alla fonte dati data source la griglia lo colleghi al data source e il data source gli dice che lui è il binding su questa tabella in memoria in cui vengono copiati i valori da dove li copia se tu vai sulla richiesta fai execute eccoli qua lui mi dice che la risposta è data ok lui ha travasato i dati nella response la response li ha fatti adattare da questo componente che ha riempito la tabella con i dati e te li vedi anche mentre progetti quindi questi sono dati che non arrivano da un db ma arrivano da una come dire da una REST API fondamentalmente chiaro che non è il modo con cui sviluppereste un'applicazione che ha come dire la sua codice ovviamente zero nel senso che questo c'è ma l'ha scritto tutto l'IDE l'ideale sarebbe metterli separati insomma fare un po' più di ordine però mettiamo che vuoi fare un proof of concept e far vedere qualcosa di che navigatore attivo ti puoi spostare se io vado sulla tabella posso edit dataset a parte che li posso vedere anche qui però se mi sposto si vede che cambia lo stato dei pulsanti e si sta spostando sui vari record cioè questo esattamente come lo vedrai in funzione quando lancio l'applicazione quindi questo è un po' uno dei come dire dei vantaggi anche a livello di delfi di fare le cose quindi poi chiaramente ti puoi scrivere il codice a runtime puoi fare la create di quello che vuoi e puoi fare tutto anche da codice se uno lo preferisce però ecco non è ability to change username o rat server user ok non uso rat server una soluzione per fare delle web api io non la uso però effettivamente è integrata nel prodotto cioè tra i vari tipi di applicazioni c'è la possibilità di fare una web api usando questo web questo rat server application ah c'è proprio il gruppo a parte che gira su windows e non ovviamente su mac desktop su ios su android su linux perché questo è un server quindi rat server package hai un nex che praticamente fa da server e questi package sono delle librerie in cui tu metti le tue risorse e crei degli end point fondamentalmente la cosa bellina di quella eseguibile è che ti puoi cambiare a caldo hai una configurazione abbastanza semplificata cioè una volta che li copi crei in automatico la funzionalità sono un po' bistrattati perché essendo legati al prodotto non open source e essendo partiti a pagamento alla gente non non piacciono più di tanto però come dire in realtà sono in realtà è una soluzione quindi che c'è che che funziona qui vedo che non hanno messo altre cose particolari quindi il resto sono fondamentalmente forse è nato bugfix main page dovrebbe esserci un elenco anche di quello release notes linux firemonkey ecco qui dovrò andarmi a vedere un attimo perchè android poi non funziona bla 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 what's new forse qua c'è l'elenco new hidden enhancements però questo è un what's new generico è quello della funzione 12 quindi qui c'è c'è tutto è tutta roba che riguarda secondo me la parte di schia integration sì che è già presente nel prodotto quindi supporto di none supporto a questo anche questo devo ancora provare posso generare il graph devo un po' provarlo alcune cose sì query by example sì queste sono le novità della 12 quindi la 12.1 alla fine il resto sono bug fix hanno creato un nuovo portale per quality central però direi che non c'è tempo di dargli un'occhiata sì la 12 l'hanno abbastanza farcita ecco qui c'è la cosa c'è sulla voce community edition direi fondamentalmente nulla di nuovo nel senso che ti queste secondo me non l'hanno toccata per cui è sempre dovrebbe essere sempre la stessa ti porterà sì parla poi di licenza qui non mi sembra che parli come installarla get install for delphi farà un barcadero feature manager quindi qui selezioni la tua piattaforma adesso penso che quando poi ci sarà la l'ultima versione stabile di questa 12 o magari attorno ad agosto per la questione di android non lo so adesso ci stanno lavorando di solito la community edition diventa la la free sulla versione più stabile quindi secondo me magari fanno verso settembre un'altra update release e rilasciano una una community aggiornata forse perché sarebbe a quel punto la seconda update della della 12.2 dovrebbe essere quindi dovrebbe a quel punto essere abbastanza stabile per farci una volta era molto più tarpata solo windows adesso la community fa più o meno tutto bisogna solo si installarla registrarsi ogni anno va rinnovata però insomma alla fine questi ci campano di questi metri di sviluppo quindi dare gratis quello che vendi per sostenere la come dire la la tua la tua azienda è già una buona cosa ma secondo me sono molte iniziative anche sulle sulle scuole quindi stanno anche un po' diffondendo stanno lavorando abbastanza bene stasera ho visto che c'era anche live su twitch Embarcadero Tech c'era Ian Barker che è il diciamo responsabile per developer relationship quindi è quello che intrattiene gli sviluppatori potremmo dire che si stava presentando un po' le novità e quindi c'è tutta una serie di filmati che dovrebbe fare durante la settimana che sono programmati almeno ho visto sul sul canale di youtube mi è sembrato di aver di averli visti già proprio come dire pianificati vediamo se ci sono veramente o se le ha messe come forse le ha messe come live si ci sono tutte tutte queste qui vediamo se riesco a ah no questo è solo cam ok beh io posso anche scomparire ha fatto la prima raspberry pi applicazioni per il cloud protezione applicazioni da hacker linux stasera ha fatto questa tutto quello che devi conoscere dell'idee poi ci sono parte dei componenti quelli che sono già presenti c'è la parte dei componenti in terza parte l'avrebbero dovuto introdurre prima diciamo che c'era una starter c'è sempre stata una versione gratuita però essendo come dire un core business si ci stava è una buona cosa però alla fine hanno sempre fatto delle iniziative mi ricordo turbo delfi ogni tanto hanno fatto un un output di qualcosa che magari può installare però è sempre una cosa che fanno ovviamente con un po' di come dire di riflessione più che altro perché quello che succede che c'è visual studio code magari gratuito ma perché microsoft lo usa come volano per farti sviluppare magari in dotnet in c sharp con che ne so SQL server e azure perché poi quelli sono i servizi che rivende cioè ricordiamoci sempre che quello che è gratuito non è gratuito perché c'è un'azienda che ha un reparto intero di sviluppo che lavora su un framework come dotnet gratuito e una versione gratuita di SQL server e una versione gratuita di visual studio ci sono perché poi servono per vendere altri prodotti perché l'azienda si deve sostenere quindi quelli sono resi gratuiti perché c'è poi servono a spingere altri prodotti in questo caso il prodotto è l'ambiente di sviluppo quindi già lasciarlo gratuito è un bel regalo perché comunque è anche completo quindi non è proprio la versione ultima ultima ma è quella appena precedente e al netto di alcune novità c'è dentro c'è dentro anche tutto quindi è proprio una versione completa si potrebbe dire e quindi dalla gratuitamente sai comunque i piratoni che ci sono in giro è sempre un po' qualcosa che va fatta con le molle però sì giustamente ci sta anche android studio google è tutto gratuito perché se un domani dovessero trovarsi a dover spingere un'altra tecnologia che gli piace di più e le altre ovviamente non sono più in essere te le trovi deprecate e sei costretto a fare un porting magari a un framework a una libreria o un tool che non ha un vantaggio per te ma un vantaggio fondamentalmente per il produttore cioè al solito non dico il motto dei social il prodotto sei tu però questo è un po' una parte del rischio di usare quel tipo di prodotti d'altro canto poi c'è il vantaggio che hai delle community molto grandi tante risorse quindi ovviamente queste fanno da volano per l'adozione e quindi portano dentro molte più persone poi acquistare i prodotti che supportano poi quei 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 compilatori gratuiti qui decide la community che compra il prodotto quindi la vcl per quanto microsoft avesse paventato di rimuovere tutto il nativo da windows alla fine ciò non si è verificato e quindi tutti sono passati il dotnet però ecco chi sviluppa ben delfi vent'anni fa può svilupparci le stesse cose anche oggi non che fai programmi vecchi di vent'anni però quello che hai imparato nel 97 lo riutilizzi quasi integralmente oggi però lo usi per fare delle cose nuove ecco la novità sarebbe un modo come dire ambienti nuovi feature nuove e tool nuovi per poter utilizzare quello che io ho già fatto e aggiungere delle componenti moderne e non riscriverlo perché devo usare un framework nuovo per fare un'applicazione che è uguale a quella di vent'anni fa cioè quello è il discorso quindi se riscrivo devo riscrivere per un motivo per me quindi io cioè il codice che ho scritto alla notte facendo la notte quello non lo voglio perdere perché uno domani si inventa che windows 4 non funziona più e adesso devi usare wpf devi usare maui devi usare xamarin e poi devi usare maui poi maui devi usare blazer per entrambi cioè queste aziende che ovviamente fanno e disfano abbastanza agevolmente proprio perché il core business è altrove cioè questi sono volani per vendere il core business e quindi qualunque cosa serva per vendere quello che è il prodotto lo fanno e la base di utenti ci si adatta quindi però onestamente io non sono cioè per alcuni casi sono di quell'idea però tengo sempre un occhio di attenzione perché andarsi a legare molto da un certo punto di vista proprio una soluzione tecnica diventa sempre potrebbe essere sempre problematico anche perché il cliente non vi paga una riscrittura di un software per avere la stessa applicazione ci deve essere qualcosa di diverso e quindi ho visto conferenze microsoft dove in anni in anni dicevano ok facciamo una web API con .NET 3 core .NET 2 .NET 1 .NET 7 8 cioè alla fine sono modi diversi ma alla fine la web API è quella che già girava 15 16 anni fa è sempre la stessa quindi non cambia nulla hai modi diversi hai la versione minima scrivi un po' meno ti risparmi un attributo però molto spesso se porti applicazioni vecchie a quei nuovi framework che devi comunque modificare il codice perché non sono totalmente compatibili all'indietro ed è questa è una cosa che gestisce in maniera diciamo migliore secondo me da questo punto di vista è uno dei suoi mantra è una delle cose che secondo me fa meglio quindi perché la base utenti si rinnova se può ovviamente portarci il codice che è scritto se non ce lo può portare già che lì te lo deve pagare non te lo compra quindi questo vuol dire perché generalmente la voce è ascoltata perché il prodotto si vende se tu fai trovare gli sviluppatori quello che loro si aspetta di trovare come si diceva in inizio live il problema principale è che ci sono una base nutrita di sviluppatori di cui la metà vuole cose e l'altra metà vuole l'altra e quindi non è facile a quel punto accontentare tutti si possono provare però alcuni di questi servono interessanti come in terze parti è un buon design di interfaccia come lavorare con i database e do it properly sono ovviamente Tuesday book club è interessante comunque si sta dando abbastanza da fare il buon Ian per fare come dire di queste live probabilmente da un da un'oretta dove fa vedere un po' di cose che poi è un po' quello che facciamo noi qui un paio d'orette a settimana cose anche già viste però secondo Jacks è che se fosse sempre esistita molti obiettivi sarebbero cimentati ma secondo me lì non è questione di tempistica è proprio una questione di visione perché in passato DeFi era molto più considerato poi con l'avvento di dotnet però secondo me ha qualcosa soprattutto quando sono arrivate le versioni mobile qualcosa da dire ce l'ha ecco Flutter è bello tutto quello che vogliamo però anche questo secondo me non è da meno la produttività e il tempo in meno che impiego secondo me usando certi tool sono alla fine denaro per chi ci lavora poi per gli hobbisti quindi secondo me c'è anche tutte le iniziative che hanno fatto per metodo gratuito nelle scuole ovviamente l'hype cioè la voglia di cose nuove e la spinta commerciale di certi player come google e microsoft è veramente forte però sì sicuramente ci dovrebbe essere un po' un approccio migliore anche il fatto di dire se lo spiegate alle scuole chiamateci vi supportiamo dovrebbero spingere spingere loro da questo punto di vista spaggia la voce sarebbe molto più estesa secondo me non sarebbe cambiato più di tanto anche perché vedi che c'è una versione gratuita c'è alcuni lo fai vedere però fondamentalmente lo guardano ma restano dell'idea che non perché magari il linguaggio è cioè c'è questa nomea che Pascal sia un linguaggio del passato ma fondamentalmente Delphi nasce negli stessi anni di java python e javascript quindi vedi che questi sono aumentati esponenzialmente ma è anche una questione un po' di contesto e di cioè sì sicuramente l'avrebbero usati in di più questo indubbiamente però secondo me molto più estesa non lo so più estesa un po' più estesa ci può stare o comunque sull'indice sul T.O.B. index potrebbe andare peggio ecco nel senso che adesso netto che questo l'ho preso con le molle perché viene determinato cioè comunque python c c++ java c sharp javascript go chiaramente anche go si spaventano perché pensano è anche il fatto di cercare sviluppatori Delphi cioè io se dovessi far lavorare qualcuno su Delphi io cercarei uno sviluppatore se è una persona che è skillata secondo me imparare a utilizzarlo io ho imparato ad usare molto bene dotnet da Delphi più che altro perché quando ho visto programmazione oggetti anche se il linguaggio è diverso io le conoscenze le avevo già sviluppate su un linguaggio molto più semplice come dire esatto cioè si segue anche un po' la moda purtroppo lo so perché lo faccio anch'io e quindi però ecco a parte quelli più blasonati qui in mezzo c'è anche SQL che vabbè in alcuni dialetti potremmo considerare un linguaggio di programmazione però c'è Delphi e dietro secondo me più che altro bisognerebbe capire quanto è attendibile mi sembra un po' strano che Swift sia un po' più indietro c'è Ruby, Swift è in una posizione strana probabilmente il fatto che il Pascal è ancora molto usato per apprendimento quindi ringrazio che ci ha messo nel SQL ringrazio che non ci ha messo HTML che a volte poi succede quindi però insomma non la popolarità il discorso è cioè quando io faccio ne parlo e faccio vedere cioè uno non ci crede quindi dice vabbè però ma cioè sembra che cerchi un po' delle un po' delle scuse ci sono dei buoni motivi per cui non non usare Delphi cioè in ambito web se io voglio fare le cose con React o Angular ecco Delphi uso per il back-end ma il lato front-end anche proprio come ambiente a meno che non usi uno dei suoi componenti per sviluppare senza usare JavaScript che ce ne sono e sono interessanti come TMS web core eccetera fondamentalmente preferisco Visual Studio preferisco JetBrains preferisco WebStorm da questo punto di vista ecco potrebbe prendere un po' più spunto da WebStorm cioè organizzati degli eventi organizzare eventi di programmazione portici delle licenze da magari che hanno durato di un anno che non siano di una community ma di una versione magari Enterprise che è full feature magari con un mese dove tu puoi studiartelo e provare a vedere tutto quello che ci puoi fare e magari dopo un anno qualcuno decide di tenere qualcuno decide di cioè non dico devi regalare ecco però quella è una cosa che farei però chiaramente c'è un'idea che non so se sono poi fattibili perché prima non posso fare i conti in tasca e in barcadero e secondo non so poi chiaramente come il management gestisce però io ovunque vada che si parli anche dato JetBrains ha 5 licenze che te le da cosa pensi di Unigui non l'ho mai utilizzato però chi lo usa è abbastanza contento su del Ficlab Italia se ne è parlato il vantaggio di questi framework è che molti conoscono Delphi però nel suo linguaggio però anche nel suo essere visuale ci fanno applicazioni abbastanza velocemente e quindi sono contenti di non essere sviluppatori come oggi magari lo intendiamo nel senso del termine faccio coding mi faccio l'interface mi faccio programmazione oggetti metodi anonimi c'è chi proprio scrive il codice ma più che altro è un ambiente rad come quasi come uno scala cioè sanno che trascinando le tabelle aprendo una connessione con quelle poche operazioni hai una griglia vedi dati te li puoi editare e quindi si fanno fondamentalmente dei front-end per cui un framework con cui fanno la stessa cosa ma diventa un'applicazione web sono più che contenti chi ne sappia funziona anche abbastanza bene stasera probabilmente non c'è in chat ma a volte si collega c'è Maurizio Del Magno che andò a trovare a Riccione questo fine settimana visto che vado là che ci ha fatto un RM e ha dei demo anche su Uniguy quindi ha proprio dei componenti dove agganci entità all'interfaccia per gestire l'inserimento dati in maniera visuale ha un esempio VCL FireMonkey e Unigui 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 con gli stessi componenti quindi alla fine si utilizza ecco è molto Delphi da quel punto di vista è una cosa che è molto integrata in Delphi quindi chi conosce bene Delphi e non ha magari conoscente le altre linguagge gli piace molto l'approccio faccio drag and drop e sono a posto perché deve fare delle gran maschere alla fine poi spesso ci sono dei data entry da fare non è che ci sia bisogno di creare quelle applicazioni è una soluzione che in pochissimo tempo ti tira su ti tira su un'applicazione io ad oggi faccio fatica a scegliere se partire con Vue con Angular con React faccio fatica anche a dire scelgo un framework solo lato client perché adesso va di moda il rendering server side almeno il primo e quindi tanto vale che si usi PHP a momenti perché cominciamo a rispostare roba sul server dopo che l'abbiamo spostata sul client ecco tutte queste c'è alla fine molte di queste evoluzioni escono tante versioni tanti framework chi li usa in maniera spinta e usa le novità e fa veramente le applicazioni complesse le sfrutta ma la maggior parte fondamentalmente fa applicazioni che poi vanno mantenute per vent'anni quindi a meno di non doverla di scrivere fin che gira gli standard sono gli stessi quindi io ne ho diverse web in produzione nel 2010 che sono ancora utilizzate anche prima nel 2008 sono ancora lì hanno un aspetto ovviamente stilisticamente un po' vecchiotto ma ancora funzionano se i database sono fatti bene ci sono gli indici si storicizza si archivia si tiene ottimizzato alla fine l'uso mi trovo bene avrebbe sviluppato sì ecco spesso è la grafica che non magari ti mette una una come dire la possibilità di fare css a quel punto se te lo puoi importare un designer magari può dare una mano però se fai solo drag and drop ovviamente sono un po' bruttini da quel punto di vista quello non l'ho usato so più o meno come funziona so più o meno come funziona l'intra web ad esempio che è un'altra soluzione con i GUI mi sembra più più apprezzato in generale in tra web ho avuto una storia un po' altalenante però più o meno diciamo che io conoscendo javascript preferisco a quel punto sviluppare o in dot net entrambe le cose oppure il front end e in def faccio il back end ecco da quel punto di vista perché mi ci trovo più agile mi piace più avere il controllo di quello che avviene proprio nel browser quindi non che questi non te lo consentono però chiaramente sono dei layer sopra alla parte diciamo web javascript quindi quello che non ti consente di farlo se tu lo codifichi devi integrarlo anche con questi framework cioè se uso una griglia unigui e clicco da qualche parte se il server non lo viene a sapere tu non puoi integrare ad esempio un plugin jQuery così a come si dice senza fare un'integrazione perchè quello che succede è che il plugin gira cambia le cose lato client ma se il server non lo sa quando tu riaggiorni la pagina e lui vuoi fare un refresh ti trovi le cose cioè ti devi integrare non solo con la pagina ma anche con il framework che stai usando è lo stesso problema che c'è su webforms vsp.net se invece si usa mvc hai praticamente solo il back end lato client usi il framework javascript e a quel punto sei sei a posto ecco sei a posto che non è una cosa da poco però sei hai il controllo di tutto è chiaro che il controllo ce l'hai se sai conosci le tecnologie conosci gli standard del web però molto spesso un pochino le devi conoscere anche per queste soluzioni perché altrimenti rischiano di non di non diventare ottimali e quindi insomma è un discorso molto ampio bisognerebbe provarli un po' tutti magari se facciamo una live di di carrellata di tutti i framework web però io li uso molto poco lato delfi soluzione web di quel tipo ci faccio preferisco un back end che è veloce non ha il garbage collector non ti riserva delle sorprese ha delle grandi prestazioni quindi da quel lato ci sta da questo punto di vista e quindi queste live sarà interessante poi vederli per vedere cosa sword fighting robot vabbè qui si è proprio messo delle si è pianificato delle live dagli argomenti un po' un po' curiosi ci sta comunque perché come dire ci sta alla fine do un'occhiata se c'è qualche povero sviluppatore come me che magari sta ancora perché non mi fa vedere mai la mia categoria sviluppo software e giochi qui sto vedendo me stesso no c'è nessuno mai che sviluppa in italiano c'è un francese c'è un inglese è un tedesco si sembra una barzelletta ma visto che ormai si è fatta una certa come si suol dire beh abbiamo stavo guardando chi chi c'era vabbè un raidino potremmo farlo c'era Panspini ma chiuso poco fa ehm giustamente l'orario è però vedo che c'è il buon il buon cosplay che già in questo gioco un gioco veramente abbastanza ridicolo cioè dove vai con amici dentro un posto chiuso vedi dei mostri li devi riprendere perché l'obiettivo è caricare poi il filmato dove tutti i spaventi ti ammazzano e posso suggerire argomenti nelle prossime live c'è la vabbè non lo puoi ancora forse riscattare perché non mi ricordo quanti punti suggerisci no è quello più alto però sì se c'è se c'è un suggerimento volete anche perché non so mai cosa portare però può può ne tengo senz'altro conto ecco quello e questo gioco devi filmare praticamente tu e i tuoi amici che scappate da sti mostri e poi lo carichi su un portale e fai punti con le visualizzazioni cioè questo gioco praticamente il suo divertimento è rivedere dopo le imprecazioni che fai scappando dai mostri mentre cerchi di riprendere roba strana metodi anonimi classe t3 gestione della memoria sono tre temi in uno quindi ma come fai ad avere già 20.000 ah no e sei via se ne puoi suggerire non c'era bisogno di quelli li ho messi perché cioè siccome ci sono volevo dare mettere anche una cosa un po' utile non sapevo cosa metterci quindi è sempre sperimentazione stasera stiamo sperimentando un po' di un po' di cose però l'avrei preso vedi che i miei suggerimenti fanno seguaci perché è una cosa che avevi suggerito anche tu come di metodi anonimi secondo me ne avevamo parlato forse non specificatamente ma ci avevamo fatto una seratina su in live separato ovviamente quindi quindi voto anche io thread così mi mettete in difficoltà e thread sono difficili eh parte che che ad oggi ci sono le mi devo documentare però probabilmente dovrò farlo in maniera forzata breve perché mi serviranno pare che c'è la parallel library quindi oggi è molto più comoda come dire è quello che mi manca in dirfi qualcosa come h in dotnet e in java perché io farei volentieri a meno di usare un t thread proprio nudo e crudo ma anche un task perché molto spesso c'è questa tendenza di programmare un po' multi-threading dal punto di vista del creo i thread quando mi serve qualcosa poi lo risincronizzo ne faccio n dovrebbe farne pochi che fanno poche cose ma che girano tutti in parallelo e fargli scambiare dei messaggi questo sarebbe infatti c'è un progetto su github che si chiama no non si chiama icaria che io avevo sì che sono molto pericolosi invece dovrebbero non dovrebbero accedere alla stessa sala di memoria andrebbero armonizzati in un qualche modo ci vorrebbe un framework strutturato in in questa modalità cioè dove io li faccio partire li lancio e tutti rimangono pending in attesa di qualcosa sì sì no cioè l'utilizzo però ecco quelle n connessioni diciamo che lì mi viene molto comodo il cosiddetto actor model cioè usare dei thread veramente però o con un approccio alla javascript che sarebbe interessante quindi sincronizzare dei callback sì ho provato a vederlo un po' vecchiotto sì no è abbandonato da tempo io l'avevo forcato per farci qualche prova c'è chi ha fatto cose simili usando i messaggi di windows quindi sarebbe interessante vederlo sarebbe interessante sviluppare qualcosa del genere però ci potremmo anche provare quindi potrebbe essere una cosa che magari mettiamo un project live un project live qualcosa del genere però sì cioè non è un framework banale quindi sarebbe e orari dei messaggi non l'ho approfondito quindi sarebbe sarebbe interessante a questo punto di vista adesso vedo perché dovrei trovare un po' di materiale visto che immagino che poi vogliate vogliate una spiegazione più che cioè tutorial più che un'esplorazione che potrebbe richiedere anche Spinetti ha fatto qualcosa e anche quello non sono sicuro però che sia multi trading sarebbe interessante il libro di Dalia Prasnishka che non mi ricordo come si scrive che ha fatto proprio un libro sulla Synchronous quindi e forse ha fatto anche una libreria però è sempre sennò c'è anche Omnithread Library la Parallel Library ci sono degli strumenti però si diciamo che siamo un layer sopra i thread però è l'architettura dell'applicazione che secondo me andrebbe messa a messa in quella che ha fatto Horizon ah ok allora non mi ricordavo il nome del framework so che lei gli ha dato dei nomi un po' un po' strani però Horizon Multithread beh lì ci si potrà dare un'occhiata perché queste cose mi interessano perché ad oggi le interfacce devono essere chiaramente responsive soprattutto su applicazioni mobile non bisogna bloccarle quindi ci vuole questo questo approccio per cui sicuramente l'argomento interessante quello fuori di dubbio per cui adesso me la noto e poi vediamo lo uso per gestire i form adesso ci darò un'occhiata così potrebbe essere interessante magari sperimentarlo e farci e farci qualcosina niente già che migriamo verso la chiusura riattivo la la musichetta speriamo che non sia troppo alta così facciamo un raidino il buon in questo caso andiamo dai gamer perché qui gli sviluppatori sono tutti sono tutti già andati a dormire quindi mi prepari lo chiesti notica mobile infatti lì è imprescindibile cioè se tu su windows ti dice che è bloccato vedi che sta caricando lo togli se te lo fai mobile prendi prendi quell'app e la butti nell'umido cioè subito istantanea se puoi un sito web e so che si succede da questo punto di vista devo un po' prendere qualche qualche esempio qualcosa quantomeno se non da studiare da provare in live per vedere queste cose per cui saluto grazie mille rimanete per il raid istantaneo così vi vedete anche sto gioco che fa abbastanza ridere perché secondo me fa ridere è fatto apposta direi che se non ci sono controindicazioni imprevisti ci vediamo vi fate anche i punti canale con i raid così vi serviranno perché adesso metterò alcune cose tipo fai una domanda oppure volevo mettere anche la sfida programma con gli occhiali scuri e roba del genere però non era molto serio ma la metterò perché così bisogna bisogna togliere un po' di bisogna togliere un po' di come dire di serietà questa cosa va bene allora ci vediamo alla prossima live c'è sempre tra tutti e sempre i miei riferimenti nei vari messaggi nei vari link e anche qui o su telegram e direi che vi saluto un buon weekend perché penso che la prossima prossima settimana rimanete per il ride e direi buonanotte e alla prossima ciao a tutti alla prossima ciao a tutti ciao a tutti alla prossima grazie la sua soddisfazione e il nostro miglior premio ciao a tutti